Il Comitato dei Pendolari sul Monal Aquila vuole tutelare numerosi passeggeri della tratta, rappresentando come la chiusura estiva, qualora non permessa contrattualmente, sia un danno per il cittadino, il quale a parità di costo, sia in termini di biglietto e sia in termini di finanziamento pubblico, ottiene un servizio nettamente peggioro per motivazioni ascrivibili a gestioni e opportunità azientali, che non possono e non devono influenzare la regolarità di un servizio pubblico. Con queste parole parte la protesta dei pendolari che si trovano a viaggiare frequentemente sulla Sulmona l'Aquila. Da diversi anni Trenitalia si legge in una nota indirizzata l'assessorato dei trasporti e mobilità della regione Abruzzo sospende il servizio ferroviario sulla tratta in questione durante il mese di agosto. Tale interruzione è casonico in Italia viene giustificata adducendo generiche necessità di manutenzione della linea ferroviaria. Non risulta agli scriventi che durante la manutenzione lungo gli oltre 26.000 km di linee italiane venga mai effettuata la chiusura di tratte, se non per gravi e improrogabili necessità. Peraltro a Pentolare che a settembre può di nuovo sedersi completamente sul treno, non sfugge che la serie di buche all'interno della seconda galleria da Raiano verso Molina Terno sono sempre lì da anni e resta il mistero su quali siano state le attività svolte tali da dover necessitare della chiusura della linea. Questa non è una situazione esclusivamente di principio, se ribadisce nella nota, l'utilizzo del bus comportano allungamento del tempo di percorrenza di quasi mezz'ora. I pendolari a quel punto saranno costretti a anticipare la partenza dalle 6.48 alle 6.30 per non parlare poi dei rientri pomeridiani, i quali tra traffico, bus senza aria condizionata e incastri lungo la strada statale su Bequana arriveranno a un tempo di percorrenza di quasi due ore. Il comitato chiede dunque all'assessorato dei trasporti della regione Abruzzo di voler cortesemente intervenire presso Trenitalia affinché in virtù di un preciso contratto finanziato con i soldi dei cittadini sia da quest'anno evitata la chiusura estiva di 5 settimane della tratta ferroviaria su Monalacuila o perlomeno ridotta la sola settimana di ferragosto. Qualora la società concessionaria si risca di non poter ovviare a tale chiusura programmata, l'assessorato dovrà fornire l'elenco dei lavori realmente svolti in modo tale da verificare tramite il personale tecnico dello stesso l'avvenuta esecuzione delle attività comunicate.